Bene amici di HDblog, è il Doro 820, un signor Fon, quello che sta girando questo video. Pan veloce, controluce, finalmente un bellissimo tramonto a Milano, guarda che suggestiva questa immagine. Facciamo lo zoom sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio, torniamo indietro, adesso mi fermo sul passaggio nella via. Ripeto, Doro, signor Fon, che sta girando questo video. Non signor telefono, ma signor Fon, telefono per anziani.